Avete visto La fabbrica di cioccolato? Sigla! L'ho rivisto qualche giorno fa e volevo parlarne con voi. Ma prima di tutto mi presento. Ciao a tutti i più grandi e più piccini, io sono Elisabetta e in questo video parleremo della fabbrica di cioccolato. È un capolavoro di Tim Burton, famoso per i suoi film fantasy, infatti io ne ho visti qualcuno. E questo film come protagonista ha il famoso Johnny Depp che prende il ruolo di Willy Wonka, il re del cioccolato e il padrone della sua fabbrica. Questo film viene prodotto da Warner Bros Pictures ed è uscito nel 2005, poco prima che nascessi io, e ha incassato a livello mondiale quasi 475 milioni di dollari. Noi vi rendete conto quanti soldi, cioè quasi mezzo miliardo, cioè quante cose che mi potrei comprare, mi potrei comprare anche tantissime fabbriche di cioccolato. Comunque il film inizia con un narratore che parla della vita di Charlie e della sua famiglia. Charlie è un bambino povero che abita in una casa molto strana, insieme ai suoi genitori e ai suoi nonni paterni e materni. E uno dei nonni di Charlie lavorava nella fabbrica di Willy Wonka, che poi fu chiusa per sempre perché qualcuno gli aveva rubato la sua ricetta segreta. E da lì decise di lasciare tutti i suoi dipendenti a casa. Però la fabbrica dopo un po' di tempo ricominciò a produrre il cioccolato, ma questa volta come dipendenti aveva i Oompa Loompa, piccoli e serini che vivevano in un villaggio segreto. Willy Wonka anche lui stava invecchiando, anche se questo non si notava. E così decise di mettere 5 biglietti d'oro in 5 tavolette di cioccolato e spedirle in giro per il mondo, così che 5 bambini trovassero biglietti. Questi biglietti come scopo avevano quello di visitare la fabbrica. Fra questi 5 bambini si trovò anche Charlie. Nel film ci sono diverse scene su come i 4 bambini entrano in possesso dei biglietti. E l'ultimo, cioè il quinto biglietto, viene trovato da Charlie con un po' di suspense. Il giorno dopo che Charlie ha trovato il quinto biglietto, inizia la visita nella fabbrica di cioccolato, guidata proprio da Willy Wonka in persona. Ogni bambino aveva un capriccio, dato che erano tutti viziati e monelli. Tranne Charlie, che era un bambino molto educato e umile. Perciò ognuno dei 4 sono spariti o si sono trasformati. A questo punto Charlie, rimanendo l'unico bambino che ha rispettato le regole di Willy Wonka, viene premiato con il titolo di nuovo padrone della fabbrica. Charlie viene messo ad una dura scelta. Per essere il padrone della fabbrica deve lasciare la famiglia. Ma lui non accetta, però riesce a convincere Willy Wonka che la famiglia è più importante della fabbrica di cioccolato o dei business o dei soldi. A questo fa riferimento il film. A questo punto Charlie ottiene una fabbrica di cioccolato e Willy Wonka una famiglia. Questo film ci fa capire tantissime cose. Cos'è il valore della famiglia, che i capricci non vengono mai premiati e che l'umiltà viene sempre ripagata in bene. Se guardate questo film, cercate di prendere esempio da Charlie. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate tanti pollici in su e iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti. Attivate qui la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. E ciao, tanti abbracci! Grazie. Grazie. Grazie.